E' appena finito lo spettacolo di Bimbo Bell a Matelica, un successo, abbiamo iniziato la grande gli eventi del Natale 2019 e come tradizione vuole Bimbo Bell e Babbo Natale sono pronti a prendere la patente da matto, sette giri della fontana come vuole la tradizione perché a Matelica venne Sisto Quinto nel 1500 e tutti i matelicesi chiesero il manicomio e una fontana. Allora Sisto Quinto fece la fontana poi disse chiudete tutte le porte cosicché avrete un manicomio ed ecco perché la tradizione vuole che noi a Matelica daremo la patente da matto facendo sette giri intorno alla fontana. Prego! Uno, due, tre! Uno! 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 Sì, ma poi mi fanno stare più vecchio! Dai, 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 dai! Quattro! Ciao, ciao! e nelle vesti della vicepresidente della proloco sono qua a conferire la patente da matto a bimbo e al nostro papo natale gonfiabile vi aspettiamo a matelica